Buongiorno amici, rieccomi con un nuovo bellissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista importantissima, la European Heart Journal. Questo è un paper molto molto bello, veramente bello, di Valentin Fuster sul ruolo dell'obesità dominale e della sindrome metabolica nel attivare la proliferazione delle cellule staminali nel midollo osseo, che sono responsabile, come vi spiegherò, in primis dell'aterosclerosi, quindi delle placche aterosclerotiche che poi portano all'infarto del miocardio, all'ictus e alle altre patologie cardiovascolari che sono la prima causa di morte nei paesi occidentali, ma poi, come vi spiegherò, sono anche responsabili di un aumento rischio di tumori, soprattutto emetomologici, ma anche di invecchiamento. Quindi, seguitemi, chi è interessato a capire la bellezza della scienza ben fatta, la scienza con la S maiuscola, appunto, chi è interessato a questi tipi di concetti e non tanto alle chiacchiere da bar, le frasi fatte, le stupidate, le formule magiche, penso possa apprezzare, possa imparare a capire quello che è buona scienza da quella che è cattiva scienza o pseudoscienza. Alcuni miei amici mi hanno suggerito di presentarmi perché non tutti mi conoscono e quindi mi hanno suggerito di dire chi sono. Allora, io mi chiamo Luigi Fontana, sono un medico, uno scienziato, sono un professore di medicina e nutrizione, attualmente sono il direttore della cattedra in medicina metabolica traslazionare all'Università di Sydney, dove dirigo il centro clinico del Charles Perkins Center del Royal Prince Alfred Hospital, e sono anche il direttore del programma sulla longevità in salute del Charles Perkins Center dell'Università di Sydney in Australia. Ecco, fatta la presentazione entriamo nel vivo di questo bellissimo paper. Allora, è bello perché sapevamo che c'era, perlomeno nel modello animale, una relazione tra i processi metabolici e ormonali che stimolano la proliferazione delle cellule del midollo osseo e il rischio di sviluppare atrelosclerosi e altre patologie. Però non c'era nulla nell'uomo, anche perché era difficile poterlo misurare con metodiche che non fossero biopsie del midollo osseo, che naturalmente sono molto invasive. In questi studi hanno usato praticamente la PET, che è la tomografia ad emissioni di positroni, insieme alla risonanza magnetica, hanno usato praticamente questo marcatore metabolico che è il fluoro deoxyglucose, marcato, e hanno praticamente stato a studiare a livello di tutto il corpo come questo marcatore di metabolismo e proliferazione si incorporava non soltanto nel midollo osseo, ma anche nelle arterie, quindi nelle placche atrelosclerotiche. E quello che hanno visto fondamentalmente è che le persone che apparentemente erano sane, che avevano un maggiore uptake di questo tracciante nel midollo osseo, avevano dei livelli di obesità dominale, di fattori della sindrome metabolica più elevati rispetto a chi aveva un basso livello di uptake del tracciante. Non solo, hanno visto praticamente che questo livello di tracciante correlava con il numero circolante di leucociti, di neotrofili, monociti e linfociti. Vi spiegherò poi perché è importantissimo e perché si possono misurare e come si possono ridurre, vi spiegherò, e infine si è visto che le persone che avevano appunto più attivazione delle stem cells, delle cellule staminali del midollo osseo, avevano anche delle placche atrelosclerotiche più grandi e avevano un'attivazione, un'infiltrazione dei macrofagi nelle placche atrelosclerotiche. Quindi è un paper bellissimo, importantissimo perché ci dice fondamentalmente che, faccio vedere adesso, ci dice fondamentalmente che tutti quei fattori metabolici, ormonali, che si associano tipicamente alla obesità addominale e a una dieta scorretta e alla mancanza di attività fisica e anche allo stress, perché lo stress praticamente attraverso una spinta catecolaminergica, sappiamo, attiva la proliferazione del midollo osseo. Questo appunto, attivazione del midollo osseo, aumenta il numero di cellule circolanti che appunto vengono prodotte dal midollo osseo, vanno in circolo in eccesso e poi naturalmente si infiltrano nelle placche atrelosclerotiche rendendolo più infiammate, perché potete sapere che la terosclerosi è un processo infiammatorio immunitario e quindi più cellule immunitarie vanno, entrano nelle placche atrelosclerotiche, più queste diventano infiammate, più diventano instabili e più crescono e diventano a rischio di erosione e quindi poi di avere un evento infartuale, un ictus o altre complicanze dal aneurisma della orta, tante altre patologie su base atrelosclerotica. Ok? Quello che volevo farvi vedere velocemente del paper, i dati sono, guardate pazienza un secondo, eccoci qua, vedete praticamente, queste sono le vertebre, hanno misurato l'uptake con la pet nelle vertebre lombari, vedete che qui è una high uptake del tracciante, qui non c'è uptake e vedete praticamente che l'obesità, coloro che sono obesi hanno un più alto, una più alta attivazione, proliferazione delle cellule staminali nel midollo osseo, coloro che hanno una sindrome metabolica, invece in arancione, hanno una più alta attivazione, hanno dei livelli più alti di leucociti, di cellule rosse, hanno dei livelli più alti di insulina, chi mi ha seguito può andare, si ricorda i video con cui ho spiegato come l'iperinsulemia compensatoria in risposta all'insuloresistenza, questo marcatore di insuloresistenza, fondamentalmente spiega l'invecchiamento accelerato, il cancro e qui praticamente spiega di nuovo la proliferazione delle cellule staminali con aumento di livelli circolanti di leucociti, neotrofili, linfociti e via dicendo. L'altra cosa bella di questo paper, come vi ho detto, che siccome vedete la posizia centrale quanto è importante come fattore di progressione dell'attivazione del midollo osseo, metabolic syndrome, dislipidemia, ipertensione, infatti vedete che maggiore è l'attivazione del midollo osseo, maggiore è l'uptake nelle arterie, nelle placche aterosclerotiche del tracciante e non solo questo, ma vedete che qui vi faccio vedere le placche aterosclerotiche in coloro che hanno un'attivazione del midollo osseo sono più grandi rispetto a quelli che non hanno l'attivazione del midollo osseo e vi volevo far vedere per ultimo questi dati in cui si vede fondamentalmente che tutti i fattori della sindrome metabolica, cioè coloro che hanno l'attivazione del midollo osseo, delle cellule midollo osseo hanno una circonferenza vita più elevata, dei trigliceridi più alti, l'HDL e colesterolo, il colesterolo buono più basso, hanno dei livelli di glicemia più alti e una pressione sistolica e diastolica più alta. Quindi insomma il circolo si chiude e perché è importante questo paper perché tipicamente come medici noi andiamo a misurare il rischio cardiovascolare misurando il colesterolo, LDL, l'HDL, andiamo a misurare la glicemia, la pressione arteriosa e la proteina cirreativa. In realtà questo è un marcatore ancora più fine, più sensibile che potrebbe aiutarci, come vi spiegherò in un secondo, a capire come molte patologie dell'invecchiamento hanno un comune minimo denominatore. Cosa voglio dire? Vedete in questo paper pubblicato da un mio amico collega al Monsignor di New York in Selle, Phil Swirsky, chiaramente dimostra come in una persona normale sana che ha dei bassi livelli di insulina, di glicemia, di colesterolo e di altri fattori anabolici, il modollo osseo prolifera in maniera normale, cioè una normale proliferazione delle stem cells ematopoietiche. Quando invece il modollo osseo e quindi tutto l'organismo viene bagnato dal liquido interstiziale che praticamente è il frutto di quello che circola nel sangue ed è ricco fondamentalmente di fattori di proliferazione, insulina, EGF1, testosterone, stradio, l'infiammazione, glucosio e altro, le cellule del sistema, le cellule ematopoietiche staminali proliferano di più e proliferando di più quello che avviene è una ematopoiesi clonale accelerata. Infatti vedete che un marcatore di proliferazione accelerare come il CHI 67 plus è aumentato negli animali con aterosclerosis e questo spiega quello che abbiamo visto con questo paper che vi ho appena dimostrato, quindi non solo nell'animale ma anche nell'uomo. Il problema è che questa aumenta la proliferazione non solo produce più leucociti circolanti che come vi ho spiegato circolano, poi entrano nelle placche e inducono un'infiammazione e instabilità della placca e cresce della placca aterosclerotica, ma naturalmente un'aumentata proliferazione cellulare aumenta il rischio di mutazioni, driver mutations, perché più le cellule proliferano, più i sistemi di riparo del DNA, di apoptosi e via dicendo vengono inibiti e quindi aumenta il rischio di mutazioni e quindi poi aumenta il rischio di tumori ematologici e non solo perché naturalmente non soltanto le cellule staminali ematopoietiche proliferano di più, ma anche le cellule staminali dell'intestino e di tanti altri organi che poi negli uomini sono proprio i tessuti, quelli che chiamiamo epiteliali, quindi la mammella, il colon ed altri, l'endometrio che hanno queste cellule staminali che proliferano e quindi aumentano il rischio di mutazioni e quindi poi dello sviluppo di cancro. Non solo, questo bellissimo paper pubblicato su Nature nel 2021 fa vedere che queste cellule mutate, queste cellule immunitarie, queste stem cells mutate, immunitarie, questo l'hanno fatto geneticamente facendo la delezione di un gene che si chiama IRCC1 che è importante nel riparo del DNA, quindi hanno creato selettivamente delle cellule immunitarie che hanno una mutazione di questo genere del riparo del DNA e quindi hanno più danno, questo è un marcatore di danno al DNA. cosa succede? Che sebbene sia selettivo il danno per le cellule immunitarie, queste poi circolano, vanno nei diversi tessuti e causano senescenza globale, vedete praticamente che due marcatori di senescenza come P16 e P21 sono aumentati nella orta, nel polmone, nel fegato, nel pancreas, nel tratto gastrointestinale, nel rene, nel cuore e non solo c'è un aumento della senescenza cellulare ma c'è anche un danno perché c'è un aumento degli enzimi epatici, quindi danno epatico, danno renale con proteinuria, c'è danno della cartiragine di altri organi. E poi insomma il paper è lungo, molto bello, ne ho parlato mi sembra, quindi potete andare a vedere il video, dimostra chiaramente che l'accumulo di danno al DNA in singole cellule, in particolare le cellule immunitarie che circolano e vanno a infiltrare diversi tessuti, sono responsabili di un invecchiamento globale, generale dell'organismo. E voi dite, beh ma cosa ci possiamo fare? Possiamo farci molto e ve lo spiego in un secondo. Quando circa vent'anni fa iniziai a studiare gli effetti della restrizione calorica nell'uomo e iniziai a studiare i primi volontari che facevano restrizione calorica senza malnutrizione con tutte le vitamine e minerali, uno dei marcatori più importanti e ricorrenti era la riduzione delle cellule bianche, neotrofili, linfociti e monociti circolanti. Praticamente era un marcatore presente nel 100% di questi individui. Tenete conto che se voi fate esame del sangue, tipicamente i vostri leucociti circolanti sono tra 4.000 e 10.000. Se sono sopra i 10.000 avete un'infezione, molto probabilmente, o una malattia tumorale del sistema immunitario, tipicamente un'infezione virale o batterica, comunque normalmente molte persone hanno 5.000, 6.000, 7.000 la media delle persone che circolano in giro. Queste persone che facevano restrizione calorica senza malnutrizione, la stragrande maggioranza aveva meno di 4.000. Alcuni giravano addirittura con 2.500, 3.000 leucociti totali. Ed era praticamente impressionante, come fosse un fattore comune a tutti questi individui. E poi l'ho ritrovato, anche se non così estremo, anche le persone che sono delle attività fisiche in maniera costante e importante. Naturalmente questo era uno studio cross-sectional. Poi abbiamo fatto un randomizzato, uno studio randomizzato, quindi causa-effetto, vedete questo qua che abbiamo pubblicato su Aging nel 2016, due anni di restrizione calorica, una moderata 12% di restrizione calorica, quindi non si parla di mangiare tanto di meno, parliamo un 12% in meno per due anni, ha causato, vedete, vedete, una immediata e importante riduzione delle cellule bianche circolanti. Vedete in rosso quelli che hanno fatto distrizione calorica rispetto ai controlli, hanno avuto una riduzione progressiva delle cellule bianche circolanti, dei linfociti, dei neutrofili, dei monociti e anche una riduzione della proteina C-reattiva, del TNF-alfa e di altri marcatori di infiammazione senza, perché poi abbiamo vaccinato queste persone con diversi vaccini, pari T-B per l'influenza, tetano e via dicendo, non abbiamo visto una riduzione della risposta immunitaria. Quindi meno cellule bianche, meno infiammazione, ma risposta immunitaria conservata. E quindi quello che voglio dirvi è che in realtà non soltanto come medici possiamo misurare quanti sono le cellule circolanti che in assenza di infezioni sono un proxy della proliferazione del midollo osseo, che come vi ho fatto vedere in questo primo paper, correla con il rischio di atrosclerosi e con tutti questi fattori per insulinemia, obesità centrale e i fattori della sindrome metabolica. Ma appunto anche, come vi ho spiegato, sono fondamentalmente un marcatore di aumentato rischio di danno al DNA in tutte le cellule staminali, perché ripeto, gli stessi fattori che stimano la proliferazione cellulare delle cellule staminali del midollo osseo, stimolano la proliferazione cellulare delle cellule staminali, dell'intestino, del colon, della mammella, della prostata, di tanti altri tessuti, aumentandone il danno al DNA e tutte quelle alterazioni che aumentano il rischio di cancro, aumentano il rischio di disnescenza cellulare che viene letta a livello sistemico, come vi ho fatto vedere in quel paper su Nature 2021, e quindi aumentano l'invecchiamento, accelerano l'invecchiamento sistemico. Sì l'attività fisica che una dieta sana con una riduzione dell'introito calorico che si esplica in una riduzione di tutti quei fattori di rischio metabolici, ormonali, che sospingono la proliferazione cellulare sono degli interventi potentissimi per la prevenzione dell'invecchiamento e di molteplici patologie. E per questo tipo, se per il colesterolo esistono le statine, per la ripertensione degli antipertensivi, per la glicemia, la metformina e altri farmaci antidiabetici, non esiste nessun farmaco, a meno che non sia tossico, come si usano per alcune patologie, che inibiscono la proliferazione delle cellule staminali, perché sono farmaci chemioterapici che si usano per particolari patologie tumorali. e quindi spero che sia un ulteriore segnale, un'ulteriore evidenza scientifica che vi propongo per cambiare il vostro stile di vita seguendo dei dettami scientifici seri, quindi non fatevi ingannare da queste diete che vi promettono perte di peso o tante altre cose, perché alcune di queste invece sono assolutamente dannose. Quindi seguite la scienza, educatevi, seguite dei professionisti seri che capiscono, che hanno studiato, che capiscono fondamentalmente i meccanismi biologici che controllano i processi di invecchiamento, l'accumulo di danno metabolico molecolare che porta allo sviluppo di molteplici patologie. E con questo vi ringrazio e vi saluto come sempre. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie.